Nello specifico, ripeto, investendo anche la sovrintendenza e l'assessorato all'agricoltura a creare un'apposita misura per stimolare la valorizzazione del paesaggio con gli orti urbani nelle aree di prossimità, soprattutto a riqualificare molte aree degradate e a fare in modo soprattutto che con l'utilizzo di queste risorse si possano anche creare delle opportunità di gestione di questi spazi, quindi anche da un certo punto di vista occupazionale. Diamo seguito a un accordo che era stato fatto tra il Presidente Scopelliti e la sovrintendenza un anno fa. Questo è uno dei primi atti che danno a quell'accordo, questo protocollo, da una prima significativa concretezza. Abbiamo attraverso l'autorità di gestione dei fondi in agricoltura le risorse necessarie, chiediamo attraverso il tavolo un censimento di queste che sono le aree e poi vedere i tipi di interventi che possiamo mettere in campo su questa apposita misura. Si parla di aere urbane, però anche di valorizzazione dei centri storici? Non c'è dubbio che tutto ciò serve ad esaltare quelli che sono il patrimonio nostro dal punto di vista archeologico, culturale, perché il paesaggio è sempre stato visto come un permesso da parte della sovrintendenza, quasi come un'autorizzazione in sé. Invece deve essere uno degli aspetti, come ho detto anche in conferenza stampa, un altro attrattore al pari di quello che può essere la montagna o il mare in Calabria. Perché ci sono 140 beni censiti e noi accanto a questo, con questo programma, vogliamo fare in modo che gli spazi adiacenti, questi beni culturali, siano valorizzati attraverso appositi interventi. Scambiando qualche riflessione con il collega Dattolo, parlando della nuova programmazione, io mi sono posto un problema, che è un problema presente in molte altre comunità, quello di cercare di fare i cosiddetti orti di prossimità, anche nelle città, perché no? Da quel ragionamento e dai ragionamenti che si faceva anche per riqualificare anche i centri urbani, che hanno aree che sono degradate, con l'aiuto dell'architetto Prosperetti abbiamo messo su questo primo step che ci darà la possibilità di fare una sorta di tavolo tecnico, cabine di regia, per poter individuare anche le risorse necessarie per poter fare alcune iniziative, come quello che dicevo poco anzi, come mettere anche a disposizione le nostre strutture regionali, di azienda, anche alla Biaverde per esempio, per poter fare degli interventi che possono qualificare anche le aree urbane. Sono ragionamenti che vanno inseriti nell'ottica della nuova programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.